Furto da 26.000 euro alla landi officine di Via Vitolo nella zona industriale di Battipaglia. I ladri si sono introdotti all'interno della struttura entrando dalla parte posteriore dopo aver provato ad accedere dal cancello principale. Una volta dentro la gang ha scassinato la cassaforte grazie ad una smeridiatrice, portando via il denaro presente all'interno. A fare la triste scoperta i titolari dell'azienda che si occupa di vendita di ricambi d'auto che hanno denunciato subito l'accaduto alla polizia. la quale ha avviato le indagini del caso per risalire ai responsabili del furto.